Oggi ti faccio fare un esercizio per ritrovare te stesso, per capire veramente chi sei. Questa cosa ti sarà utilissima non solo per il tuo percorso interiore, ma anche per farti stare meglio sia da un punto di vista mentale, che da un punto di vista interiore, che da un punto di vista fisico in generale nella vita. Perché ti fa prendere la giusta prospettiva su quello che sei. Questo esercizio puoi ripeterlo quante volte vuoi, non serve avere gli occhi chiusi, devi semplicemente seguire quello che ti dico. Non è una meditazione, ma puoi utilizzarla anche durante le tue meditazioni, puoi utilizzarla ogni tanto, per uscire dalla tua persona, dal tuo avatar, dal tuo personaggio, dalla tua creazione mentale e tornare nel qui e ora. È il modo più semplice per spiegare a parole quello che veramente una persona è, un essere umano è, la forma, la vita è, secondo me. È un esercizio che ho preso da un altro insegnante spirituale, un altro maestro spirituale, ma l'ho un po' modificato, aggiungendo anche qualcosa perché, secondo me, questa persona non è arrivata fino in fondo. Secondo me ha anche confuso un paio di cose e quindi voglio farvelo, secondo me, in un modo migliorato, un po' più approfondito. Iniziamo. Allora, rilassati, al 3, pensa a una parola. Se non sai cosa pensare, pensa alla parola shambo, che è una parola che non è di per sé quello il senso dell'esercizio, ma è una parola che ha un significato spirituale, soprattutto nell'induismo. Non è un esercizio induista, ma ho preso una parola che mi è venuta in mente. Quello che vai a fare, al 3, è dire quella parola, ma senza usare la voce. Quindi, dentro di te. Di la parola, dentro di te, senza usare la voce, senza dirla ad alta voce. Uno, due, tre. Ok. Adesso voglio farti capire, voglio farti notare, che chiaramente hai parlato, ma senza usare la voce, senza usare la tua bocca. C'è stata una parola, sei a conoscenza che c'è stata questa parola, ma non hai usato la bocca. Adesso al mio 3, ripetela di nuovo. Come primo, dentro di te. Uno, due, tre. Non solo hai parlato senza usare la tua bocca, ma hai sentito quella parola. Hai chiaramente sentito quella parola senza usare le orecchie. Non c'è stato nessun suono mai sentito te stesso pronunciare una parola. Riprova al 3. Uno, due, tre. Quindi c'è una voce che parla, qualcuno che ascolta, ma non hai usato né la tua bocca né le tue orecchie. E adesso ti voglio fare, ti voglio far fare, quel passo in più che ti volevo dire. Perché gli insegnamenti di questa persona arrivano fino a qui, ma secondo me ci si confonde con lo stato mentale. Questa persona ha detto, ok, questa cosa che non ha usato la bocca, che non ha usato le orecchie, ma che ha parlato, e che ha sentito, è la tua anima. Secondo me, no. C'è una confusione con il corpo mentale, il corpo fisico e il corpo interiore. Energia, prana, anima, coscienza. Chiamalo come ti pare. Secondo me si è confuso con il corpo mentale. Quindi facciamo un passo extra. Al mio 3, ripeti di nuovo la parola. Uno, due, tre. Ti sei accorto che hai utilizzato, hai parlato senza utilizzare la bocca, hai sentito senza utilizzare le orecchie. Potenzialmente puoi anche aver visto quella parola, magari lettere, o un'idea che ti sei fatto di quella parola, ma senza usare gli occhi. Quindi hai utilizzato tutti, praticamente quasi, i tuoi sensi, ma non hai utilizzato il tuo corpo. E quindi tu dici, ok, che cosa hai utilizzato? La mente? Giusto. Molto probabilmente hai utilizzato la mente. E qua si fermava l'esercizio precedente. E può essere importante perché molte persone non capiscono che loro non sono la mente. Facendo questo esercizio, si capisce che sei leggermente staccato dalla tua mente, ti fa leggermente staccare dal tuo processo mentale, dalla tua creazione, dal tuo passato, dal tuo futuro, dalla situazione di vita che ti sei creato, i tuoi amici, le tue amicizie, quello che hai accumulato nel tempo, ti fa capire che non sei tu, ma è tutto nella tua testa, è una creazione nella tua testa. Quindi è molto utile per questo. Ma io ti voglio andare a fare, voglio farti fare un passo oltre. Ora il mio 3, ripeti per l'ultima volta, dentro di te questa parola. Uno, due, tre. hai visto senza gli occhi, hai parlato senza la bocca, e hai ascoltato senza le orecchie. Ma ancora più importante, ti sei accorto, eri consapevole di tutto questo, è come se l'avessi visto. Hai visto che tutta questa cosa stava succedendo. quindi senza utilizzare nemmeno il tuo corpo, ti sei accorto che c'era un qualcosa, una presenza, un testimone, che vedeva questa cosa, questa parola ascoltata, pronunciata e vista, dall'alto. Come se ci fosse qualcosa che vedesse la scena dall'alto, perché sai che è successo. Se non l'avessi visto, non sapresti che è successo, semplicemente è passato. quello è quello che potenzialmente può andare più vicino alla sensazione di aver capito chi sei. Quello sei tu. Quel testimone silenzioso oltre la mente, oltre la personalità, oltre il tuo avatar, oltre Marco. Ma non solo il Marco fisico, perché non hai utilizzato niente, ma il Marco anche mentale, che ha utilizzato tutte quelle cose lì, ma non era quello che guardava, quello che guardava era la coscienza, e non era attaccata a Marco, perché Marco è comunque un'identità mentale, l'identità fa parte della mente, del corpo della mente. Quindi qualcosa che non è corpo e mente, ha guardato ed era conscio di questa cosa. Più fai esercizio con la pratica, con le meditazioni, eccetera, e più ti accorgi perché servono praticamente a quello, e più impari a vedere a livello esistenziale, a staccarti da questa creazione che ti sei creato di mente e corpo, e a vedere le cose al di fuori, da al di fuori della tua identità. Perché se hai visto corpo e mente bene, vuol dire che sei fuori da corpo e mente, non puoi vederle rimanendoci dentro. Vuol dire che ci sei fuori. E se ci sei leggermente fuori, che cosa sei? Quello che tendenzialmente viene definito yoga, quello che tendenzialmente viene definito unione, quello che tendenzialmente viene definito coscienza. Il essere, semplicemente essere, senza essere attaccato a nessuna forma. Quindi l'essere senza forma, che poi si manifesta in forma. Quello che nelle religioni viene potenzialmente chiamato divinità. Quindi quel qualcosa da cui poi tutto dà origine. Il fatto che noi sappiamo che c'è fare esperienza di noi stessi. Quindi è un po' come se l'essere umano ha questo privilegio di poter essere un po' una casa per questa coscienza e quindi farne esperienza tramite un personaggio che ti crei a modo tuo. L'importante è che per la maggior parte delle persone, diventa anche il più grande problema, l'importante è capire, ritornare, facendo un passo indietro con un po' di prospettiva, questa cosa. Perché se finisci nella tua mente e ti identifichi troppo con questo personaggio, hai mille tipi di sofferenze, compulsioni e diventa un casino. È un po' come se fossi in campagna e ti godi il paesaggio, il qui e ora, il presente, ma a un certo punto vuoi bere da questo pozzo che è la mente, questo strumento incredibile di immaginazione, di memoria che è la mente. Il problema che cos'è? È che con quello puoi fare grandi cose col pozzo, ma invece di prendere un catino e tirare su quando ti serve, ti tuffi dentro. Ti tuffi dentro e spesso non sai neanche riuscirne. Anzi, pensi che il mondo sia il pozzo dopo un po'. L'importante quindi è uscire prima di tutto dal pozzo con esercizi così o con la meditazione e poi imparare a utilizzare questo strumento in modo consapevole non per autosabotarsi ma per farsi del bene. Questo esercizio può essere molto utile per imparare questa distinzione tra le varie parti di sé. Quindi queste accumulazioni che sono Marco e quella coscienza che invece non è nessuna accumulazione ma è semplicemente E. E su cui il resto tutto si appoggia. Ecco qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ah, e un'altra cosa. Prima di andarmene volevo iniziare a fare una nuova rubrica. Fatemi sapere cosa ne pensate. Un nuovo tipo di video. Invece che fare video su cose che comunque voglio condividere magari continuerò a farlo. Un video sulla cuore esteriore, un video sulla cuore interiore più o meno settimana come sto continuando a fare ora. Due video a settimana. ma rispondendo alle vostre domande quindi in base ai commenti che riceverò in questo video se vedo un commento che mi piace oppure un commento che ha più mi piace degli altri magari una domanda o un argomento o volere una chiarificazione eccetera allora andrò a prendere quel commento e ci farò un video dedicato. Quindi farò i video rispondendo comunque a domande. Ho visto che per tante persone che comunque fanno questo tipo di video è un format che funziona perché è anche un modo per interagire e avere più continuità anche con voi fatemi sapere se può piacervi. Quindi in questo video il commento con più mi piace o comunque qualcosa che sceglierò io se sono tutti con lo stesso numero di mi piace allora lo sceglierò come argomento per il prossimo video magari per una spiegazione o una risposta a una domanda o qualsiasi cosa. Ecco qua fatemi sapere se vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!